Ciao a tutti e benvenuti su AmicoVC In questo video vogliamo parlarvi dell'ultima versione dell'Oculus Configuration Utility Se avete l'Oculus Rift DK1 e DK2 sicuramente avrete notato una grande differenza nell'ultima versione del tool In passato era possibile passare dalla modalità estesa a quella diretta Dalla nuova versione invece non è più possibile farlo perché l'Oculus viene direttamente utilizzato in modalità diretta Inoltre non è compatibile con le vecchie Touch Demo o giochi che utilizzano una versione precedente dell'Utility Quindi se avete l'Oculus Rift DK1 e DK2 e avete scaricato la nuova versione del Configuration Utility Per visualizzare l'Oculus nel pannello di controllo Nvidia Se chiaramente disponete della suddetta scheda come schermo secondario Andate su C-Programmi86-Oculus-Tools Mantenete premuto lo Shift sulla tastiera e cliccate con il destro del mouse Cliccate su Apri finestra di comando qui e digitate D Premete il tab sulla tastiera due volte e digitate OFF Così facendo disattiverete il Direct Display Config Se andate adesso sul pannello di controllo Nvidia visualizzerete lo schermo Oculus In qualsiasi momento potete tornare indietro digitando ON Non fate assolutamente l'errore di recarvi su Tools, Service, Configure e spostare il debug su DK1 e DK2 Questa opzione è rivolta soltanto agli sviluppatori Quindi se volete utilizzare l'Oculus Rift come avete sempre fatto Questo è il metodo giusto Vi ricordiamo che se avete delle vecchie demo giochi per Oculus Rift che siano di K1 e di K2 non aggiornate Al nuovo tool non funzioneranno In quanto una volta lanciate verranno visualizzate esclusivamente sul monitor del vostro PC E non all'interno dell'Oculus Rift Per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto e iscrivetevi al canale se volete Per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento Per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento